Dobbiamo sparire dietro le nostre maschere in qualità di assistenti intercambiabili. Un kabuki tropicale. Aloha! Bello essere qui. Siamo in luna di miele. Lei è un ospite importante. Benvenuti al White Lotus! Sono più grosse. Nicole, sono enormi. Era da un po' che non le vedevo. Hai cancro. Palle gonfie. Ti hanno fatto una biopsia le palle, papà? Non ancora. Sorpresa! Mamma! Vi ho interrotti? So che è la vostra luna di miele. Caspita, hai visto la sua faccia? Rancelleri davvero una sposa stupenda. Un po' pallidina, ma ora che sei abbronzata sei perfetta. Grazie. Lei ha davvero del talento. Lei sa bene quello che fa. Vuole venire a cena con me in hotel stasera? Io stacco alle sette. Allora facciamo qualche minuto dopo le sette al ristorante. Fantastico. Essere un ragazzo di questi tempi non deve essere facile. Perché? Perché non possiamo importunare le ragazze? No! Beh... Crede che io sia uno stronzo? Hai fatto lo stronzo? Perciò mi chiedevo che cosa potreste fare per farci stare meglio. No, ho fatto di tutto per non essere stronzo. Ma hai fallito. Dov'è? A fare un giro. Buon divertimento. Belinda è la migliore. Prenderò un appuntamento? Certo. Se non è prenotata da me. Ti confido che vederli mangiare ogni sera mi fa venire voglia di strapparmi i bulbi oculari. Belinda! Belinda! Io voglio solo parlare col suo capo. Cazzo! Non mi sembra il più romantico hotel delle Hawaii. Voi che dite? È bellissimo, certo. Ma lo trovate romantico? Non è male. È carino. È carino.